musica 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 facciamo il termesito da qui ahahah Dica Dica eh eh noi siamo qua non si capisce niente di finire questa macchina ahahah ahahah qua dormiamo stasera siamo arrivati a Selle a Pasqua ah il Tanagro Selle guarda che fiume e qua sono già due a Selle 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 di due forma di vino Hija di Dio AHAA Bella Nooooo Guarda, c'è uno in mano qua Ahahahah Si è sceso Si è mai sceso un po' Si no, perché non abbiamo fatto parte di Gilles No, no no... Stai filmando? Si Saluto a la camera Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.